La mostra di pittura è uno degli eventi più importanti dell'estate qui a Castiglionfibocchi. Abbiamo a suo tempo anche seguito la cerimonia di inaugurazione. La caratteristica di questa mostra è che ogni due settimane c'è il cambio degli artisti. E quindi un cambio degli artisti di fatto anche abbastanza recente. Sì, abbiamo cambiato questo fine settimana gli artisti, tutti e quattro artisti i nostri espositori, questa volta due Aretino e due Friulani. Quindi offriamo ai visitatori un change again, lo chiamiamo così come formula, perché il visitatore può tornare più volte nel nostro paese a visitare la mostra e approcciare artisti diversi, di territori diversi, di stili diversi e di forma di arte diversa. Pur tra la diversità degli artisti, come sta andando questa mostra complessivamente dal giorno inaugurale? Sì, sta andando molto bene. Abbiamo avuto riscontri sia da parte di compaesani, sia da parte di persone che arrivano dalla provincia, ma soprattutto anche da turisti stranieri. Il nostro territorio offre diversi bed and breakfast, agriturismi, resort, che portano turisti stranieri quest'anno, soprattutto tedeschi e olandesi, a visitare la nostra mostra. Quindi si può parlare in generale per Castiglionfibocchi di un miglioramento notevole rispetto all'estate scorsa? Sì, sicuramente sì. Siamo entrati nel circuito turistico grazie anche alle sponsorizzazioni, al patrocinio dell'Arezzo in Tour, della Fondazione e della Fondazione Guido d'Arezzo, che ci ha sponsorizzato e promulgato nei loro social e nei loro canali di comunicazione. Questo ha portato sicuramente un riscontro e un ritorno sul nostro territorio.